Kate, duchessa di Cambridge, si è unita alla first lady statunitense Jill Biden per uno straordinario impegno in cornovaglia. Kate ha collaborato con la dottoressa Jill Biden oggi, mentre la famiglia reale scatena il suo morbido potere diplomatico sui leader mondiali. Kate e il dottor Biden si sono incontrati per la prima volta in cornovaglia, dove si sta svolgendo il vertice del G7. Lì, la coppia ha concentrato la loro attenzione su una causa molto vicina al cuore della duchessa di Cambridge. L'educazione dell'infanzia. Kate e il dottor Biden hanno visitato la Connor Down Academy di Yale dove, indossando maschere per il viso, si sono seduti con gli alunni di 4 e 5 anni e hanno preso parte alle loro attività. Successivamente si sono uniti ai bambini in giardino per vedere come si prendono cura dei conigli residenti nella scuola. Alla scuola, la coppia ha anche tenuto una tavola rotonda con esperti di istruzione del Regno Unito convocati dalla duchessa e altri tre esperti statunitensi riuniti dal dottor Biden. Mentre il dottor Biden indossava un abito bianco abbinato a una camicetta rosa, Kate ha indossato un abito rosso di Alexander McQueen. Sia Kate che la First Lady hanno un vivo interesse per i primi anni. La duchessa di Cambridge ha creato un gruppo direttivo nella primavera del 2018 per approfondire la ricerca su questo argomento. All'inizio del 2020 ha lanciato un'indagine a livello nazionale focalizzata per saperne di più su ciò che il paese pensa che le esperienze fatte durante i primi cinque anni di vita possano avere sullo sviluppo dei bambini. E a novembre la duchessa ha preso parte a un forum virtuale svelando i risultati del sondaggio, abbinati a ulteriori ricerche e studi di casi. Con il principe William, Kate è stata anche una sostenitrice vocale della campagna di vaccinazione in tutta la Gran Bretagna. Il 29 maggio, Kensington Palace ha pubblicato sui suoi account sui social media una foto della duchessa che riceve la sua prima dose del vaccino contro il Covid-19. La dottoressa Biden ha anche sostenuto la campagna di vaccinazione degli Stati Uniti e ha viaggiato attraverso il suo paese per sollecitare le persone a farsi il vaccino. Durante il suo primo viaggio all'estero come First Lady degli Stati Uniti, la dottoressa Biden accompagna il marito Joe Biden. Malala Est, il suo ufficio alla Casa Bianca, ha dichiarato che il dottor Biden ha in programma diversi eventi da solista durante il suo soggiorno nel Regno Unito.